Molte volte i bandi promossi dal comune di Rosarno, che prevedevano l'assegnazione di beni confiscati all'Andrangheta, sono andati deserti. E spesso ce ne siamo occupati. Questa volta no, ma Farsavanti è una onlus che ha sede a Roma, si chiama Fabia, presieduta da Giuseppe Trieste. E questa la dice lunga perché nessuna associazione del territorio ha partecipato al bando. Ma aver assegnato il bene, visto il clima di diffidenza e paura, è da ritenersi già un successo. Si tratta di una unità immobiliare adibita a negozio, con corte retrostante ubicata nel centralissimo Corso Garibaldi. Ma l'assegnazione alla onlus romana non finisce qui perché un altro bene finisce in gestione. Si tratta di un immobile comprensivo del terreno e del complesso sportivo su di esso edificato, incontrata a carrozzo nella periferia sud della città. La concessione è a titolo gratuito ed avrà una durata di 10 anni in base al regolamento comunale per la concessione in uso dei beni confiscati alla mafia. L'atto concessorio è avvenuto dopo una lunga trafila burocratica, avviata dalla commissione esaminatrice che a giugno ha approvato in fase di gara l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile richiedendo nel contempo all'Agenzia delle Entrate il certificato di carichi pendenti riguardanti tutti i soci dell'Associazione Fiaba. Stessa richiesta alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, mentre alla Prefettura di Reggio è stata avanzata istanza per le informazioni relative a tutti i soggetti. Dopo il via libera delle istituzioni è arrivato quella della giunta comunale. Il sindaco IDA ha manifestato soddisfazione per l'affidamento ad un'associazione di rilevanza nazionale come Fiaba Ollus, sottolineando che lo sforzo dell'amministrazione è rivolto tra l'altro a promuovere la valorizzazione dei beni confiscati per dare il segno della volontà di ripristinare una condizione di piena legalità.